Signori, qualche settimana fa durante il super pallone d'oro ci siamo imbattuti in un bambino uguale e identico a Ronaldinho Sembrava suo figlio Al termine della partita tra Samuel e Sergio abbiamo organizzato una sfida tra bambini come fosse un torneo del pallone d'oro Ovviamente si è riscritto al torneo anche il mini Ronaldinho Che quella sera ha letteralmente distrutto i suoi coetanei Maria, Maria Lo sapete a noi che la svolta lento piace e il giorno dopo abbiamo deciso di portarlo con noi al campo per testare le sue abilità E quello che state per vedere è il risultato Facciamo entrare il sosia di Ronaldinho, Liam vieni dentro, come stai bro? Mi sono messo in ginocchio così l'altezza è la stessa Allora, mi hanno detto tutti nel centro sportivo che tu sei il più forte di tutti qua, che fai un sacco di gol Quanti anni hai? Sei Sei anni ragazzi, di che anno sei? 2016 2016 che deve ancora compiere i sette anni Allora, qual è il tuo ruolo nel calcio? Attaccante destra e attaccante sinistra Quanti gol fai nella tua squadra? Otto Otto gol, in quante partite li fai più o meno? Due partite, ok, quindi una media di quattro gol a partita Voglio il sorriso di Ronaldinho Ragazzi, è uguale La somiglianza è sconcertante Vediamo se la somiglianza sarà anche qui, nei tuoi piedi E allora, iniziamo con questo test Allora, siccome Ronaldinho era molto bravo nei palleggi Voglio vedere il nostro baby fenomeno, se si avvicina un po' Facci vedere un po' il palleggio Attenzione, è partito, è partito Come una molla Guardate quanto è carico Però voglio vedere anche un palleggio di testa Attenzione Sì, per la nasa non è beffiero di te Puoi fermarti Puoi fermarti, bene Adesso testiamo le tue abilità nelle skill Che era il punto forte di Ronaldinho Che era fortissimo nel dribbling Facciamo un giochino Io ti farò vedere delle skill di Ronaldinho E tu dovrai essere bravo a ricrearle, ok? Non ti senti... Oh Ronaldinho Come vedi Ronaldinho era molto bravo nelle biciclette, ok? E anche tu Devi provare a fare la bicicletta La sai fare? Secondo me non lo sai fare Devi scartare lui, ok? Quanti anni hai? 10 10, bene Quindi ragazzi, 6 anni versus 10 Ricreiamo allora la bicicletta Attenzione No, no, non ti è riuscita Di nuovo, da capo C'è da ricreare una bicicletta Attenzione Attenzione, bellissima Qua ti sei un po' perso Anche i bambini prendono i pali Ricordatevelo Non solo Gnabri Adesso altra skill molto importante di Ronaldinho L'elastico Sai fare l'elastico? Sì Faccelo vedere allora Io scommetto che non lo sai fare questo Non è che puoi saper fare tutto a 6 anni qui, eh? Siamo calmi, umiltà Dai, vai Attenzione Bello Buciaco Bravissimo Elia Primo tentativo Vatti qua Devi perché adesso c'è un'altra skill molto difficile Eccoci qua, Lian Con l'ultima skill La migliore Ovvero questa La rovesciata Un gesto atletico Raffinato Che devi riuscire a replicare qui sul campo Ce la farai? Primo tentativo 3, 2, 1 Dove l'ha messa? 6 anni ragazzi Ma manca il vero Ronaldinho ne fa così Sorriso da Ronaldinho Ecco la risultanza Possiamo fare i tiri Ah, vuoi fare i tiri? E poi partita Va bene Sei bravo nei tiri da fuori? Sì, sì Allora sperimentiamo la tua forza nei tiri Che Ronaldinho era molto bravo E poi andiamo direttamente nelle sfide uno contro uno Quelle del pallone d'oro Primo tiro Vediamo un po' Centrale Intuibile Tira Concludi in porta Sezione Ronaldinho Vale gol Sei pronto? Sezione parte Ronaldinho Gaucho Do Brasil Ha fatto un po' l'effetto dell'anaco Col tuo tiro Ok Lian Adesso è il momento Di metterti alla prova Con la sfida più importante Ovvero quella di cui siamo maestri nel nostro canale L'uno contro uno Abbiamo costruito un'arena con due porticine Ti faremo sfidare tutti i ragazzini di questo centro sportivo E ti dico già che troverai avversari più grandi di te Il primo si chiama Gennaro Ha otto anni È due anni più grande di te Ti fa paura? No, no Nessuno ti fa paura Ma tu ti senti pronto? Prontissimo Schiena contro schiena Si arriva a due gol Tre, due, uno, via Si comincia Attenzione Subito, immediatamente Ronaldinho Che scivolata Occhio alla Ronaldinho Mamma mia Che giocatore Che giocatore Che dribbling Oddio E questo è il mio Nooo Niam Fa niente Fa niente Riparti Attenzione Gennaro Viene fermato da Ronaldinho Che recupera il pallone Mamma mia Palla c'è Palla non c'è Mamma mia Dribbling Passa Ancora Si salva Gennaro Allora Ronaldinho Attenzione Si è tolto le scarpe Preferisci giocare così? Sì perché Ronaldinho fa così Ronaldinho fa così Vediamo dopo la carica di Isaac Se arriverà al primo gol Gira fuori una giocata dal cilindro Mamma mia Che gol Si riparte allora Gennaro Vediamo se risponderà a questo gol subito Attenzione Ronaldinho che non prende la palla Bravo Attenzione può ripartire Eccola lui Golla Mamma mia Allora è spaccato Ma certi numeri dove li hai imparati? Ronaldinho C'è qualcuno che ti fa paura qua? No Nessuno Chi vuole essere il prossimo ragazzi? Ti chiami? Mattia Quanti anni hai? Nove Tre anni in più ragazzi E allora alziamo il livello Si arriva a due gol Prego inizia a deliziarci con questo secondo match Ronaldinho sei anni Mattia nove Tre anni di differenza E comunque Ronaldinho non ha paura Non ci ha detto No mamma mia Come attacca Che grinta Se io ce ne ho mangiato di succo Esatto Passione Già Ronaldinho è forte Se puoi mangiare anche il gioco al fuoco Diventa imbattibile Attenzione Prova al dribbling Tunnel Passa E tira Gollo Gollo Non ha figlio Tu brazi in gola Gollo No Devi batterli Non devi distruggerli E allora 1 a 0 Se segni hai vinto Mattia però non si vuole arrendere Occhio Mattia Che prova a ripartire Pareggioli Mattia Subito E allora chi segna vince Ronaldinho Primo gol subito Vai Ronaldinho Un gol e la chiudi Non farti intimorire Non farti intimorire Ah c'è stata una spinta Alzati Tutto a posto? Ok Tutto regolare Tutto regolare Ci sta Mattia Non puoi più subire gol Ronaldinho Qui rischi Prende palla a Ronaldinho Che prova a ripartire Regolare Tutto buono Regolare Palla fuori Non ti arrabbiare Non ti arrabbiare Non ti arrabbiare Ronaldinho Stai giocando benissimo Bisogna riuscire a mantenere i nervi saldi Perché ricorda Che i grandi giocatori Sono forti non solo qui Ma soprattutto qui Sulla testa È più grande di te Di tre anni È normale essere in difficoltà Un gol E la chiudi Ok Palla fuori Mamma mia Ora te lo mangi Ora te lo mangi Mangiatelo come Isaac Mangia riso con pollo Mamma mia Non ci sta capendo più niente Il tuo avversario Digno Serve una giocata Del fuoriclasse Attenzione Ci prova a superarlo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Alla via Il sorriso Del pelovero Tre anni più grande Mattia Eppure Ronaldinho È qui Oltre ad essere forte qua Devi essere forte qua Nella testa Ok Hai affrontato un momento difficile Prima ma l'hai superato Eccoci qui All'ultima sfida Digno Se vinci questa È finita Sì Sei carico? Sì E allora Andiamo a vedere Il tuo avversario Quanti anni hai? Dieci Dieci Attenzione Quattro anni in più Abbiamo sparato Re Questo è il livello finale E allora Tre Due Uno Si comincia Prova le skill Daniela Il pallone Prova Digno Prova a contrastare Prova la robona Fake Stacco che gol 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 Ronaldinho Contro Mini Ronaldinho Clamoroso Vediamo se qui Riuscirà a ritornare in vantaggio Ancora Si detila Che carico Che carico Che carico Che cosa gli dici? Cosa gli dici? Vamos a brasil Vamos a brasil Carraio Parabéns by Lau Allora si riprende Ricordiamo che Daniela Quattro anni in più Di Liam In avanti Prova il tunnel Va Liam Hai contrasto Salvataggio miracoloso Di Daniel Che partita tesa Chi fa gol Vince La saluta azione Attenzione Il tunnel Grandissima skill Poi precisissimo Palo gol Cosa vogliamo dire Vamos a brasil Allora Liam Tu hai sei anni Hai battuto uno di otto Uno di nove E uno di dieci E questo veramente Un grande applauso per lui Perché ragazzi Se lo merita Commentate qui sotto Come vi è sembrato Se davvero Secondo me è un futuro Ricordo classe 2016 Deve ancora fare sette anni Ragazzi Mi raccomando Continua a giocare a calcio Non fermarti mai Perché io ti voglio In futuro Voglio vederti sui grandi schermi Voglio vederti nei palcoscenici Più importanti E ti ferò per te Quel giorno E soprattutto Vogliamo vederti con Questo l'originale Nel 2050 ragazzi Liam Solliverà questo Ricordatevi le mie parole Grazie a tutti 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 Grazie a tutti